L'out season per molti sarà, ben ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, un video che apriamo con il super rialzo di ieri di Ripple che in ogni caso al di là del rialzo singolo della singola altcoin, quello che indica ragazzi è una linea di demarcazione una vittoria, la prima vittoria del crypto contro la SEC, la SEC perde aderenza, perde terreno nelle sue cause e il giudice dà ragione ad XRP che vince fa un balzo di oltre il 75% nella sola giornata, 73% a dire la verità è 35% ma non è l'unica perché si porta dietro anche tutta una serie di criptovalute ragazzi che sono ovviamente anche Bitcoin ma soprattutto ETH, le altcoin in generale, Doge, BNB, queste per quanto riguarda quelle ad alta capitalizzazione vi faccio vedere il rendimento invece solo della settimana, se volete vederlo del giorno vi fate un po' una risata guardate che cosa succede, anche altcoin come Matic, Link, altcoin come XLM, ovviamente Stellar che chiaramente si riporta vicino a XRP e poi ADA, la stessa ADA e poi Solana che, attenzione su Solana perché è successa qualcosa cioè ha indicato un cambio e una centratura ciclica finalmente possibile proprio nella giornata di ieri insomma queste altcoin che si sono svegliate ma come si fa a comprendere come andare a relazionare un portafoglio Bitcoin altcoin è giusto inserire alcune altcoin all'interno del nostro portafoglio? Quando è giusto farlo? Nella scorso video vi ho fatto la domanda sull'altseason, mi avete risposto tutti che per alcuni secondo voi l'altseason è nella zona di metà anno 2024, andiamola a vedere se effettivamente è possibile una cosa del genere in questo video un po' di trucchettini in questo video su cosa è importante guardare per creare questo portafoglio di altcoin e cosa può essere interessante andare a ragionare ma avete visto anche ragazzi proprio come nelle giornate scorse un po' si evince quello che abbiamo detto negli ultimi due video, questi video che stiamo dedicando all'importanza della formazione all'importanza dell'essere preparati a queste cose ragazzi, vedete? Da un momento all'altro non si è mai troppo preparati a queste cose sono sincero, ma da un momento all'altro i mercati vi balzano in faccia e poi il treno è perso questo è fondamentale capirlo anche perché i mercati cripto sono non veloci, velocissimi ragazzi perciò bisogna prepararsi prima che queste cose avvengono c'è poco da fare, a volte si riesce a farlo, altre volte no ma è fondamentale appunto provarci ragazzi perché questi sono i numeri ci sono numeri poi stellari a volte come appunto quello di XRP, tutto in una sola giornata tra le altre cose ragazzi vi do anche una news che mi preme farlo, mi prevederlo subito lunedì facciamo una live, non facciamo un video, ore 18, una live sul canale YouTube non sarà una live che sarà poi registrata e verrà mantenuta sul canale YouTube perciò sarà visibile solo a chi partecipa in live, ore 18 lunedì parleremo di alcune cose perché ho un programma di farvi vedere anche l'importanza per concludere questa carrellata di video, l'importanza della formazione l'importanza di come effettivamente questi momenti, momenti attuali come quelli hanno cambiato anche molto l'approccio anche a determinati trader, esperienze di vita, vissuta e poi vi faccio vedere anche una struttura sulla quale stiamo lavorando ora vi do un po' un anticipo in Academy ragazzi questo ci serve proprio per i portafogli delle crypto cioè capire quando effettivamente le altcoin possono essere inserite o meno nel portafoglio eccetera è una struttura on tools, nessuno lo ha visto è in anteprima, ve lo faccio vedere, neanche in Academy me l'hanno visto quindi qui ne parliamo lunedì, nella live di lunedì alle ore 18 sul mio canale ragazzi quindi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto altrimenti poi non potete partecipare vi arriva la notifica della live su YouTube ed è una struttura on tools che ci dà la possibilità di creare le matrici di correlazioni tra tutte le crypto che vogliamo e queste matrici di correlazioni ci servono per impostare l'operatività proprio sul portafoglio crypto e andiamo all'argomento del giorno ragazzi allora impostare un'operatività sul portafoglio crypto quando conviene e quando no quali sono gli argomenti che noi dobbiamo andare a vedere primo punto fondamentale avere un benchmark di riferimento prima di capire se mi conviene avere investimenti in altcoin o meno al di là della vostra filosofia del progetto e di quelle cose lì solo da investitori, solo da speculatori ragazzi quando mi conviene fare una cosa del genere quando l'altcoin in questione o il mercato dell'altcoin può essere effettivamente può avere diciamo una migliore forza relativa rispetto a bitcoin stesso quindi io utilizzerò come benchmark nel mercato chiedito bitcoin è giusto o sbagliato nel mercato classico i benchmark sono o il dollaro quindi la moneta fiat oppure sono i titoli di stato treasury americani e AAA tedeschi, bund tedeschi quindi sono quelli investimenti che sono considerati i cosiddetti free risk senza rischio bitcoin ovviamente non è free risk questo lo sapete ma secondo me è l'unico vero indice che possiamo utilizzare come benchmark dell'intero mercato delle criptovalute perché alla fine ragazzi il mercato di cripto è un posto legato dai mercati classici quindi se noi vogliamo effettivamente capire quando è giusto investire sui mercati delle cripto dobbiamo guardare un benchmark il benchmark è bitcoin anche se non è free risk quindi se la forza relativa di bitcoin rispetto alle altre cripto è forte è ancora più forte non conviene avere altcoin al di là dei singoli investimenti questo è un problema di natura speculativa da logiche di investitore ragazzi se noi ragioniamo la singola criptovaluta allora possiamo avere esflua giganteschi ma se noi ragioniamo a portafogli di cripto agli investitori ovviamente professionisti che stanno sul mercato non per fare scommesse ma per gestire portafogli gestire investimenti dobbiamo ragionare in termini di forza relativa su bitcoin altseason sì ma se la forza relativa di bitcoin è ancora alta non conviene avere cripto anche se poi abbiamo queste giornate con XRP a più 65% che ci fanno mangiare le mani anche Solana stessa Matic più 25 però ragazzi queste cose è normale ma questi sono anche momenti isolati vi faccio vedere infatti che se noi guardiamo poi dei grafici più standard di forza relativa non è così che è avvenuto per esempio su Matic in tutto il mese mentre bitcoin infatti da tutta questa zona qui vedete da febbraio in cui bitcoin saliva Matic è solo sceso quindi se andiamo a guardare poi un grafico di forza relativa più ampia vi rendete conto che in questo momento nonostante il buzz la forza relativa ancora non è cambiata ma c'è un indicatore che ce lo dà ci dice queste informazioni ed è la dominance di bitcoin quindi prima cosa ragazzi per capire alt season sì alt season no ve l'ho detto mille volte è la dominance di bitcoin un altro grafico che andiamo a mettere nel cestone è il DXY ne ho parlato ieri in uno short youtube DXY è molto importante perché all'interno del DXY andate a comprendere come il dollaro che è comunque l'altra valuta è la valuta di riferimento scusate di tutte le cripto insieme a bitcoin è in trend quindi questo valore vedete è discendente tra le altre cose qui la previsione sul DXY è stata impeccabile quella che abbiamo dato dall'inizio dell'anno ragazzi ogni tanto capita ed è veramente precisissima infatti vi indicavo che eravamo in fase di chiusura di un ciclo da 15 anni circa e lo stiamo facendo vedete in questa fase qui quindi stiamo andando a chiudere questo ciclo che è atteso in chiusura intorno alla fine dell'anno un dollaro debole configura un mercato cripto e altro che il mercato classico che beneficia della sua debolezza in quanto essendo che tutto è prezzato in dollari se il dollaro cala di valore ovviamente io ho un prezzo maggiore in assoluto perché il dollaro è come una frazione no ragazzi bitcoin diviso dollaro se il dollaro scende vale di meno io divido bitcoin per un valore che è più basso e quindi il prezzo finale sarà più alto è una normale frazione matematica niente di che però questo grafico è un impulso a comprendere a farci comprendere quando effettivamente può avvenire anche un alt season conviene avere delle cripto in portafoglio quindi primo grafico analisi ciclica sulla dominanza secondo grafico analisi ciclica e trend sul DXY e da qui possiamo stabilire effettivamente se possiamo andare in alt season o meno da lì in poi bisogna andare a capire ok c'è la possibilità di avere un alt season o no sì ma quale cripto vado a mettere in portafoglio quali ragazzi allora lì interviene anche una logica da investitori se siete investitori sono speculatori e scommettitori mettete dentro quelle che hanno una volatilità molto alta lì rischiate la noce del capocollo come diceva di non bampi perché qualsiasi cosa succede è un disastro quindi io vi dico non fatelo assolutamente comunque non sono questi finanziari però alta volatilità vuol dire anche alti dindini ragazzi ciò significa che se effettivamente siete dal lato giusto del trend e parte una bella season fate veramente i dindini quindi alta volatilità alti dindini massimo rischio possibile quindi fate un po' voi la torta di casa dipende come vi piace giocare queste partite eccetera sconsiglio ovviamente queste cose soprattutto chi non è strapreparato con stop loss e tutto il resto altra cosa da andare a ragionare è prendo delle cripto non singole per fare la scommessina come vi ho detto prima ma costruisco un portafoglio che sia equilibrato insieme a benchmark che è bitcoin e magari è th quindi cosa faccio metto dentro delle cripto che però non sono le stesse come faccio a vedere che non sono le stesse con l'indice di correlazione che è proprio questo qui ragazzi che vi ho fatto vedere ne parliamo e approfondiamo la questione lunedì ma è molto importante questo indice di correlazione perché se voglio costruire un portafoglio stabile che sia effettivamente poco collegato l'un l'altro e quindi sia protetto e magari magari si possa trovare anche una sorta di correlazione inversa tra un asset e l'altro asset quindi uno sale l'altro scende e si bilancia quindi è importante avere in questo portafoglio una volatilità bassa e per creare questa volatilità bassa devo mettere dentro delle cripto che sono non troppo collegate e vi sbanzo mi faccio una domanda la sveliamo lunedì quale cripto secondo voi è quella più correlata a bitcoin scrivetemelo nei commenti lunedì ve lo svelo perché ovviamente ci sono i dati matematici che lo indicano qualcuno di voi lo sa già perché magari va a vedere le matrici di correlazione da altre parti però scrivetemelo nei commenti quale cripto è più correlato allora questi sono comunque ragazzi i ragionamenti che dobbiamo fare quando andiamo a stabilire se effettivamente vale la pena creare un portafoglio cripto ad accostare bitcoin o meno in questo momento partiamo dalla dominance intanto vabbè di xy ve lo semplifico velocemente di xy è un trend ribassista dovrebbe continuare questa struttura di trend per qualche altro mesetto attenzione perché poi da qui in poi il gioco si fa veramente duro perché chiaramente qui poi si inizia un nuovo ciclo e il dollaro comincia a essere di nuovo più forte bisognerà ragionare io però un'idea ce l'ho su questa cosa ragazzi e ve lo svelo nei prossimi mesi dopo l'estate perché un'idea ce l'ho di come questo indicatore di xy possa ritornare a crescere e non è collegato all'eccrito quindi potremmo secondo me respirare anche anno 2024 a questo punto di vista passiamo alla questione dominance questione dominance ha un trend ben delineato assolutamente rialzista vedete che anche se nella scorsa in questa settimana diciamo abbiamo perso il 2,70 di dominance rispetto alle crittovalute in generale il trend è assolutamente lineare e rialzista questo è un ciclo annuale che avevamo poi individuato non con poca difficoltà negli scorsi anni ma come qualcuno di voi già sta guardando io vi ho dato uno spartiacchio temporale long short che si vede si evince dai spondi colorati di questo grafico siamo nella quadrante short che significa quadrante short alcuni dicono ah devo andare short to bitcoin no non è questo quadrante short significa possibile area in cui bitcoin può avere debolezza nei confronti di alcune altcoin fino alla sua chiusura quest'area è da monitorare quindi cambi di trend dentro questa area dentro questo quadrante hanno molta più incisività e possono agire in maniera più importante nei confronti di bitcoin sesso tra le altre cose facciamo anche un giochino qui così ci divertiamo ancora di più vi faccio il quadrante all'interno del quadrante cioè questa zona qui questa zona dopo agosto in pratica 2023 è double red quindi è ancora più pericolosa qui siamo in una zona pericolo dangerous qui siamo iper dangerous iper iper dangerous nelle parti finali questo è una struttura ciclica e sono un'analisi ragazzi ovviamente va poi seguita con i cambi trend però mi indica che se qui il bitcoin la dominance dovesse iniziare a cambiare trend l'alt season potrebbe iniziare e essere un po' una mini alt season presumibilmente da quelle che sono le mie idee questo grafico secondo me potrà strutturare ancora una lateralizzazione e poi in effetti andare in fase di chiusura da agosto settembre in poi quindi io me lo aspetto in questo modo ciò significa che questo pezzo questo geometrico pezzo può essere un alt season ed è quasi mirante ragazzi mancano pochi mesi una cosa del genere non è però l'alt season che molti di voi mi hanno risposto è quella del 2024 perché perché questa sarà secondo me una mini alt season cioè un mini accenno di quello che può essere effettivamente di quello che potremo vedere dall'anno prossimo in poi perciò capite bene e ribadisco ulteriormente quanto in effetti proprio questi mesi da qui all'estate possono essere estremamente importanti per tutti per la formazione per la comprensione se abbiamo ragione in queste centrature se abbiamo ragione in questi grafici ragazzi e riusciamo ad essere preparati e formati in questo momento noi riusciamo a buttare delle basi che magari ci daranno grandi soddisfazioni perché è come remare con poi avere il vento in poppa quindi è più facile tutto qui durante i bermac durante i momenti difficili l'abbiamo ribadito tutto l'anno fondamentale è studiare studiare prepararsi non soltanto analisi tecnica e trading anche proprio l'intero mercato la tecnologia di bitcoin la tecnologia degli smart contract della DeFi quello che c'è dietro studiare è fondamentale però ricordatevi che poi investire per investire dovete essere formati negli investimenti ragazzi non basta la cultura di natura informatica questa è fondamentale comprenderelo ci vogliono entrambi con entrambi siete master superhero ok come si dice superhero quando guitar hero mi metto gli occhiali ragazzi quindi siete così questo quando ovviamente avete fatto entrambe le cose però non mi può mancare l'una o l'altra in ogni caso per investire quella investing dovete averla però questo lato qui e questi tempi qui sono tempi veramente importanti allora questo grafico della dominance ci indica dei livelli che sono adesso chiave in particolar modo perché la dominance giri questo trend e viri in negativo ci vuole tanto tanto tempo perché dobbiamo scendere al di sotto dei 48% per fare una cosa del genere noi dobbiamo vedere ve lo dico in maniera molto chiara eth mettere il turbo e bnb mettere il turbo e xrp mettere il turbo xrp lo ha fatto infatti secondo me questo calo di dominance è più legato tutto a xrp ma sostanzialmente eth no e infatti andiamo a ragionare adesso su queste crypto e ve le faccio vedere quindi è un aggancio questo che ci è stato dato ragazzi molte crypto stanno iniziando delle fasi importanti in inversione vanno prese sotto stretta osservazione anche solara va prese sotto stretta osservazione ve la mostro fra un minuto facciamo una carrellata perché il video se no viene troppo lungo ne parliamo comunque nelle prossime settimane di queste cose qui però questi sono i modi in cui dovete iniziare a ragionare se volete costruire un portafoglio crypto nella live poi di lunedì parleremo in maniera un po' più approfondita anche di tutte queste che sono le possibilità che si vanno a verificare poi quando si ha formazione adatta o meno con l'esperienza per esempio di altri trader e andremo a capire appunto come cambia un po' l'approccio al trading agli investimenti quando si ha una formazione adeguata lunedì ore 18 ragazzi bello ribadisco la prima volta che facciamo una cosa del genere quindi ci tengo non mancate la prima volta che facciamo un evento di questo tipo una live di questo tipo allora Matic ragazzi struttura di Matic la impennata di questa parte qui ci ha indicato per esempio in termini di analisi ciclica che Matic è all'interno di un nuovo ciclo trimestrale e qui non ci piove il problema qual è che questo ciclo di Matic per esempio potrebbe non essere il nuovo annuale perché l'annuale non abbiamo ancora idea se effettivamente è stato chiuso su questo minimo il 10 di giugno è possibile perché il rialzo qui è stato consistente ma non avendo ancora superato alcuni livelli tra cui un dollaro circa che è un livello chiave potrebbe essere un rimbalzo vedete e in questo rimbalzo potrebbe essere ancora in fase poi definitiva con un doppio minimo in questa zona attenzione perché se fa una cosa del genere qui c'è da ragionare veramente a capofitto per prendere posizioni poi su Matic a inversione sempre di trend io non vado mai contro trend però qui potrebbe essere estremamente interessante parliamo appunto come vi dicevo di agosto settembre dopo l'estate quindi questa zona è una zona interessante anche eventuali tip all'interno di questa area sono acquistabili bisogna prepararsi appunto per queste cose Matic è un ottimo cripto è un ottimo progetto sta facendo cose importanti quindi potrebbe essere un investimento molto proficuo non ipervolatile non farà magari numeri di criptovalute con capitalizzazioni più piccole però può essere un po' meno rischioso ovviamente sempre a favore di trend se non inverte no ragazzi non si va sul trend lo ribadisco sempre trend is your friend quindi questa fase di alzista di breve è importante vediamo come chiude questo ciclo trimestrale io ancora non mi sono mosso su queste cripto altrimenti ve lo avrei detto ma è giusto per farvi capire come andare a ragionare mi premeva farvi vedere un accenno a Solana perché Solana è non la trovo più dove sei Solana ritorna Solana ritorna eccola qui è importante perché questo balzo questo balzo di questi giorni ha indicato in maniera definitiva che sul minimo di novembre e scusate di dicembre è iniziato l'annuale qui su Solana veramente la ciclica ha sballato di brutto perché un ciclo annuale di 536 giorni è troppo lungo quindi o sono due annuali cortissimi oppure è un annuale più una specie di lingua di Bayern imperfezione a chiudere la struttura dovuta al fallimento di FTX in ogni caso è passato non ce ne frega più un tubo di quello che è vecchio quindi la sesta ormai è passato qui su dicembre abbiamo un nuovo annuale lo abbiamo sancito con il superamento di questo livello nella giornata di oggi che tra l'altro Solana ragazzi ha fatto un'accelerazione stanotte io ero ancora sveglio stavo guardando un po' i dati facciamo analisi guardate più 25 in pochissimi minuti e ho visto proprio mentre lo faceva perchè ha tentato il breakout e il livello sono andati in stop tutte le operazioni che erano short in questa fase e ha fatto il pump pump che ha già raggiunto però i target perchè si è posizionato vedete su 31 che era il target successivo tra l'altro io non ho modificato nulla di queste supporti di resistenza che vedete quindi sono le stesse che abbiamo identificato nell'ultimo video dove abbiamo parlato di Solana adesso è identificare il video che è più difficile non so dove sta allora questa zona qui però vedete è un nuovo ciclo annuale su Solana ma nulla ci dice in questo momento se questa fase qui è già fatto il massimo oppure Solana ha la tranquilla possibilità di fare una cosa del genere prima di andare a chiudere il suo ciclo annuale ma vedete come è importante adesso questa fase perchè eventuali pullback eventuali zone ribassiste anche su Solana poi mi diventano delle zone di popabile acquisto questa volta a favore di trend a favore di analisi ciclica perciò è tutto collegato in questa fase molti di voi diranno adesso è salito troppo e questo è proprio il modo in cui non bisogna ragionare quando si fanno investimenti a meno che non siete giocatori d'azzardo siete gambler speculatori allora sì in quel caso ogni tanto mi piace farlo anche a me ve lo dico lo faccio anche io ogni tanto qualche scommestina così per divertirmi ma investire grandi patrimoni e fare diciamo portafogli di lunga durata che possono perdurare nel tempo non si fa in quel modo ragazzi si fa in questo modo qui seguendo il trend e aspettando le inversioni prima di eventualmente posizionarsi vi ricordo che gli istituzionali su bitcoin ancora non sono dentro neanche con l'etf quindi giusto per farvi capire insomma come ragionano anche gli operatori istituzionali andiamo a vedere ma non matic dove adada la volevo volevo farvela vedere perché anche adada ha superato quello qui ma ha fatto una cosa interessante allora ah ragazzi e qui il problema si fa duro perché vi faccio capire come questo rialzo potrebbe essere stato appunto solo un balzo da news e da questa cripto qui da questo rialzo voi mi dovete dire qualcuno di voi che ha fatto una esitecnica ha studiato una esitecnica se questo rialzo ha modificato il trend di questa cripto assolutamente no guardate com'è importante ancora una volta avere le conoscenze per comprendere queste cose ok la FOMO poi ci entra in circolo però poi dobbiamo anche guardare i dati e renderci conto che Bitcoin è il trend rialzista inequivocabile a per cripto non è proprio così anche la stessa Matic che abbiamo visto non è proprio in trend iper rialzista ma idiosolana come trend da quel punto di vista e ad addirittura non è cambiato niente è ancora nello stesso trend di qualche settimana fa però ha avuto una leggera sussulto ma se dovesse da qui riprendere ragazzi a scendere in questo modo guardate il disegnino che vi faccio e ditemi che cosa è cambiato da questo rialzo che questo rialzo è stato probabilmente la metà del ciclo annuale quindi il ciclo semestrale su ADA che ancora deve chiudere e chiude a dicembre una cosa del genere non mi piace ovviamente però per esempio questa è una di quelle cripto che all'interno di un portafoglio dovrebbe essere messa solo al superamento di alcuni livelli ed è molto importante quindi andare a comprarla per esempio sulla forza è pericoloso e in questo caso molto più pericoloso per esempio di fare acquisti per esempio su bitcoin sulla forza va bene allora un video stranungo vi aspetto lunedì ore 18 per questo evento live un po' particolare vita da trader e insight e staremo lì insieme poi c'è anche una live ma alla fine ci facciamo domande ci sarà una super sorpresa per voi guarderemo il tool di correlazione che abbiamo creato per gli studenti dell'academy non lo sanno non lo conoscono anche loro e buon weekend nel frattempo è super assolato e ci vediamo nel prossimo ciao raga